Vi prometto che non vi darò troppi numeri, ma due ve li devo dare, perché vi spiegano in maniera semplice come è cambiata la nostra azienda. Abbiamo contato i famosi 7.000 casi risolti al 31-12-2017, ma quello che è stato molto interessante da quando ci siamo specializzati è che prima magari capitavano 2-3 richieste a settimana di trattamenti antimuffa. Quando abbiamo iniziato a fare solo quello di mestiere, quindi raccoglievamo gli scontenti di tutta l'Italia, siamo arrivati a avere e abbiamo tuttora 250 richieste in inverno, che si sa non è il mese ideale per fare lavori in casa. Il fatto di lavorare ed essere specialisti in un solo settore ci permette anche di essere abbastanza bravi, quindi risolvere veramente il problema. E quindi il famoso 99,85 con cui ci riempiamo la bocca, ma è solo un numero, significa che avendo ascoltato il cliente, non avendogli venduto quello che non serve, o alla fine questa medicina deve funzionare. Quindi ce l'avete anche voi un tasso di risoluzione così alto quando lavorate, come sapete. Però semplicemente là fuori c'è anche gente che invece i numeri non gli interessano, gli interessa solo di portare a casa la pagnotta. Però non è sempre stato così. Vi raccontavo che sono un titolare di colorificio pentito, proprio perché qualche cappellata l'ho fatta anch'io nel corso degli anni, in assoluta buona fede, senza voler togliere soldi a nessuno, ma pensando che si facesse così, perché c'è un detto che si tramanda da generazione in generazione, si è sempre fatto così, va bene. Prima del 2010 la nostra era una rivendita tradizionale, quindi il cliente ci provava, ti diceva ok stavolta tocca a te, dammi il prodotto, però non tornava a comprare l'anno dopo.